So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. An augurio a tutti i nostri concittadini, con una particolare attenzione a chi vive il Natale magari in condizioni di difficoltà e di disagio. A loro soprattutto il mio augurio e ai tanti mesagnesi che non possono trascorrere il Natale qui con noi e che sono magari impegnati fuori e all'estero. A tutti un abbraccio forte, vi siamo vicini. Comandate, un augurio ai mesagnesi. Auguri ai cittadini di Mesagnesi, sperando che il prossimo anno porti maggior collaborazione per quanto riguarda la vita cittadina, anche per il rispetto delle regole. Un augurio anche da parte vostra. Auguri ai mesagnesi. Auguri a tutti quanti. Un po' più corretto. Un po' più corretto. Auguri, grazie. Grazie. E auguri a noi. Tanti auguri a tutti i clienti e non clienti. Auguri a tutti i mesagnesi che stanno a Mesagne e fuori di Mesagne. Professore, un augurio ai mesagnesi a Mesagne e quelli che sono nel mondo. Il Natale 2016 e l'anno prossimo, il 2017, c'è bisogno davvero di dare tanti auguri. Un momento molto difficile, però bisogna stringersi, bisogna impegnarsi, bisogna comunque andare avanti. Quindi a tutti i mesagnesi residenti qui in città, a quanti ci ascoltano fuori da Mesagne, l'augurio a un bellissimo Natale ed un 2017 pieno di certezze, pieno di soddisfazioni e pieno di tanti auguri. Tanti saluti di Natale mesagnesi e quelli che stanno fuori, fuori Mesagne, il passo del mondo. Tanti saluti di Natale e dell'anno nuovo e speriamo che l'anno nuovo sarà il migliore. Speriamo. Tanti saluti. Buon Natale e buon anno nuovo di nuovo. Ciao. Allora, ringraziamo tutti i mesagnesi, un augurio di buon Natale e felice anno nuovo. Che cosa ti auguri per Mesagne? Io auguro di venire il lavoro per i giovani e un augurio di stare bene tutti gli stani di Mesagne, eppure fuori di Mesagne, fuori stieri tutti. Auguri a tutti i mesagnesi, buon Natale e felice anno nuovo. Che questo nuovo anno porti soprattutto tanto fortuna, gioia e serenità che ne abbiamo bisogno tutti. Auguri a tutti i mesagnesi, vi portiamo tutti nei nostri cuori. Grazie. 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 Grazie.